3, 2, 1, lei è Silvia, io sono Cristian e partiamo. Pro e contro di lavorare assieme? Allora, più contro che pro. Soprattutto secondo me se si è sposati o comunque se già si convive, il fatto di vedersi sia a casa che al lavoro, diciamo, un po' troppo, perché poi una volta che arrivi a tavola la sera, a cena, di cosa devi parlare, della tua giornata, ma è uguale a quella di tuo marito, del tuo compagno. Quindi forse è un po' troppo. Poi vuol dire che i problemi del lavoro te li porti anche a casa, mentre magari se hai dei problemi sul lavoro, il bello di tornare a casa è il fatto di poter staccare la testa e sfogarti con il tuo compagno e, diciamo, dividere la vita lavorativa dalla vita privata. D'altra parte, se uno è innamorato perso, magari, o se ha una passione in comune, per esempio, è bello anche creare un'attività insieme. Per esempio, il sogno del mio ragazzo sarebbe quello di aprire una palestra con un annesso fisioterapista che sarebbe lui e io dovrei essere la receptionist o comunque la personal trainer della palestra. Detto così, sì, sarebbe un sogno, sarebbe bellissimo, però a lungo andare si creerebbero non pochi problemi, secondo me. Io non aprirei mai un'attività con la mia ragazza, neanche se me la regassero, ok? Ma non perché ho problemi, ma perché preferisco tenere divise cose. Lavoro è lavoro, ok? Cristian, e la reazione è reazione, punto. Sì. Perché se per caso dovesse naufragare una cosa o l'altra, ci sarebbe un'ingerenza totale e quindi andrebbe tutto quanto scattafascio. È vero. Ok? Hai assolutamente ragione. E anche perché preferisco tenere le donne fuori dal business. Dopo vi spiego il motivo. Ok, e invece quali sono i pro di lavorare insieme? È appunto il fatto di creare qualcosa di bello insieme, perché presuppone un interesse in comune, una voglia di portare a termine un obiettivo insieme, aiutandosi. Anche il fatto magari di capirsi più di magari due colleghi potrebbe aiutare in un certo senso. C'è un ragazzo, ex studente di Playlover, che praticamente ha aperto un'attività online, cioè online, non è online. vendono degli oggetti, c'è un per gli animali, adesso non voglio entrare nello specifico, che l'ha fatta con la sua attuale fidanzata. Ok? Cosa che io non avevo consigliato, però l'ha fatta lo stesso. Attualmente però non hanno venduto neanche un pezzo di questi oggetti. Come dico sempre, ragazzi, purtroppo non è scontato trovare i clienti. E infatti adesso stanno un po' così, sono un po' tesi ecco per la questione. E sai che invece tante coppie nascono sul lavoro? Eh beh, questo sì. Perché comunque passando tanto tempo insieme ci si conosce, alla fine si può trovare la propria metà. però poi bisogna vedere come continua. Ma è... Se poi ci si lascia e si lavora insieme, diciamo diventerebbe pesante non solo essere lasciati, ma anche andare al lavoro e ritrovare quella persona con cui non è d'accordo. Ma allo stadio ci provano in tanti? Dipende... Sì, abbastanza. Sì? Ma ci sono più uomini grandi? Sì. Infatti io cerco di tenere sempre il più distacco possibile, perché sono persone troppo diverse da me. Cioè, ma parli di... Cioè, grandi. Grandi. Di età? Sì. Ma anche sposati? Non saprei dirti. Questo non... Non sono una che nota fede e cose. Però... Può essere, magari alcuni può essere, sì. Ma devi tenere presente anche i soggetti che sono. Cioè. Io voglio avere dei pregiudizi, però comunque sono ricchi. Sono abituati ad avere tutto. Sono lì per divertirsi con l'amico, bevendo il vino, non la birra, perché sono in delle stanze da... Non da birra, diciamo. Magari si bevono il calice di vino, così. E quindi nel loro comfort della domenica sera vogliono anche... Eh, ragazza? Sì, no, beh. Vogliono divertirsi. A volte io la sento anche un po' come un'aprita in giro. Non è provarci serio, è provarci un po' perché pensano di essere in grado di farlo. Ok. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere all'interno di questo topic? Pro e contro di orare assieme? No, beh, l'ho già detto, però è contro. Ok, dico io l'ultimo contro, che se si crea un problema sul lavoro diventa appunto un problema di coppia. Eh sì, quindi un motivo in più per litigare e magari lasciarsi. Esatto, come ti ho detto prima di questi due ragazzi che stanno facendo questa attività commerciale insieme, adesso che non hanno neanche mezzo cliente, secondo me si possono andare a creare dei conflitti perché... Sì, anche delle tensioni... Eh, esatto, delle tensioni interne derivanti dal business che praticamente è fallimentare. Ok? Qui da Cristian e Silvia. Anche per oggi è tutto. Ciao!